E allora, prima c'era un applauso partito, continuatelo. Gli applausi timidi sono così, insomma, bisogna essere più energici. E siccome io avrei il compito di presentare a questo uditorio il nostro Presidente per la sua relazione annuale, mi perdonerà se invece prima di lui possiamo chiamare un altro collega, onorissi causa, che è il grande professore Michele Mirabella, che è pure dottore in medicina, onorissi causa, al quale chiediamo anche di non dimenticare che anche onorissi causa implica una responsabilità proprio per quanto riguarda il medico per eccellenza e noi in maniera non presuntuosa. Modestamente diciamo che il medico per eccellenza è l'intervista, quindi ti affiliamo subito. Prego, prego Michele. Vi ringrazio per avermi invitato. Mi sento un po' come mi sentii molti anni fa, troppi, al liceo, quando una professoressa diede il compito, traccia. Dante Alighieri, il sommo poeta dell'umanità prima ancora che dell'Italia, si colloca nella storia di tutti gli uomini e del globo come un protagonista indiscusso e sul piano teologico e sul piano storico, eccetera. La traccia era lunghissima. Svolgimento. Sono perfettamente d'accordo con lei, professoressa. Quindi, siccome ho l'abitudine di ascoltare le persone che parlano anche nei convegni, che dovrebbero essermi non proprio affini, ecco, con i quali posso avere una faticosa, anche se appassionata, familiarità, io posso dire soltanto che sono d'accordo su tutto quello che avete detto. E siccome ho ascoltato anche prima le testimonianze, quelle mandate da tecnologia, ho ascoltato, per esempio, la signora Caravaglia. Mi ha convinto. Pensavo che fossi in polemica dialettica con quelli di dopo. Mi hanno convinto tutti. Forse c'è un rischio. No, non c'è. Perché io conosco perfettamente il Fadoi, sono un amico personale del vostro Presidente, che ha tutta la mia stima. Una piccola considerazione. Io ho sempre pensato che il medico di medicina interna sia una definizione da biglietto da visita, perché è una tautologia. Il medico è quello. È il medico di medicina interna, prima di tutto. Quello che ci accarezza, o ci accarezzava quando si chiamava medico, anche medico di famiglia o medico condotto, quando il suo auscultarci diventava subitaneamente un'implicita carezza di solidarietà. Come la mamma, che quando ti voleva misurare la febbre ti dava un bacio sulla fronte. O meglio, metteva le labbra sulla fronte, le teneva lì per qualche istante, culminava in un bacio questo incontro e dalla frase terribile, vai a scuola. Quello è il medico di medicina interna, per me, nella mia fantasia di cucciolo, di Pinocchio. È il medico che ti guarda e sa che dentro c'è un mondo. Lui lo conosce meglio di noi, che lo abitiamo, anzi che lo ricopriamo. Il mondo è fatto anche di piaghe, di dolori, di malattie. E lui le conosce. E lui ha il dovere e diritto di nascondere qualche volta il suo panico e di comunicarci come una preghiera alla sua ricetta. C'era un santo, che non mi ricordo più chi sia stato, che disse, beati voi, medici, che avete la possibilità di pregare Dio e di essergli vicino quando curato un infermo. È scritto a Firenze, in una chiesa. Su'eccellenza lo ricorderà meglio di me. Ho beccato l'eccellenza, no? Mi perdoni, ne dico un'altra se vuole. Ecco. Un dappertutto. Allora, nel mio lavoro di artista, che in teatro e nel spettacolo ha fatto tutto, mi è capitato di incontrare la medicina, che poi era un mio vecchio sogno di bambino, e guardate le coincidenze strane della vita. Dopo aver lavorato per 24 anni intorno al programma mio, che abbiamo inventato con altre persone, Elisir, un anno e mezzo di pazienza e mi hanno dato una laurea onore scausa. L'alexio magistrale consisteva proprio nell'analisi, nel racconto, nel racconto del medico di medicina interna. A me questo interno avrà venuto il dubbio che ci sia anche un medico di medicina esterna? No. C'è il medico e basta. Poi, se si vuole specializzare in altro, si accomode. Io continuerò a perorare la causa della varietà, dell'applicazione scientifica e della speculazione. Ma ricordiamoci che, ricordiamo tutti, che l'uomo vitruviano non è una misura filosofica o sociologica. È una misura umana. Lui può misurare, non soltanto sulla moneta da un euro, ma anche nella fantasia collettiva di migliaia e migliaia di anni, il perimetro che la provvidenza ci ha affidato in abitazione. Noi l'abbiamo presa in affitto. Dovremmo riconsegnarla così com'è. Se ascoltassero i medici di medicina interna, anche per guarire il pianeta dalle piaghe ecologiche che ha, non farebbero una lira di danno. Perché loro sanno cos'è l'armonia del corpo umano nel creato. Lo capì Leonardo, che prese l'uomo vitruviano a misura di tutte le cose della vita, compresa la spiritualità. Anche quella. E quella è talmente interna che non basta il medico. Qualche volta ci vuole il sacerdote. Qualche volta ci vuole lo psicanalista. Qualche volta ci vuole un amico. Ecco, io sono quello. Grazie. Grazie.